Il servizio di telemedicina è attivo da diversi anni all'interno della nostra azienda sanitaria al centro di questa nuova puntata di Vivere in Salute. Il progetto è stato presentato ed apprezzato nell'ambito di diversi convegni internazionali ed ha fatto da spunto anche per le linee guida emanate dal Ministero della Salute. Vedremo quali sono stati i risultati positivi ottenuti sui pazienti coinvolti a livello locale e anche come praticamente funziona la telemedicina. Avviato circa 5 anni fa nella nostra azienda sanitaria il progetto legato alla telemedicina, un progetto pilota, come è nato e come si è sviluppato in questi anni? Sì, direi che il progetto nostro di telemedicina è ormai una realtà consolidata sul nostro territorio. Come ricordava lei è nato nel 2008 come idea ma si è concretizzata a partire dal luglio 2009 grazie a un finanziamento da parte dell'assessore all'innovazione della Regione Piemonte e abbiamo partecipato con un concorso di idee è stato scelto e realizzato. Prevedeva la presa in carico di 300 utenti affetti da patologie croniche, diabete, insufficienza respiratoria e scompenso cardiaco. E aveva un termine che era il dicembre 2011. Successivamente noi abbiamo cercato di dare continuità a questo servizio cercando altre fonti di finanziamento. Nel corso di questi anni il nostro progetto, devo dire, ha avuto una risonanza particolare perché come modello è stato preso in considerazione da diversi enti e da diverse istituzioni. Ricordo per esempio che il Ministero dell'Innovazione e della Pubblica Amministrazione ritenne di doverlo presentare all'Expo di Shanghai nel luglio del 2010. Abbiamo partecipato e siamo stati selezionati come uno dei 40 progetti più innovativi per quanto riguarda il premio EGOV che si è tenuto a Rimini nel giugno del 2011. È stato presentato nel corso del congresso internazionale sulla telemedicina a Londra sempre nel 2011 e ho partecipato personalmente presentandolo al forum del Mediterraneo in sanità. In quell'occasione ho avuto modo di confrontarmi con altri progetti di telemedicina presenti sul territorio nazionale e devo dire che il nostro progetto non ha fatto una figura secondaria. Anzi, devo dire che in quell'occasione ho avuto modo anche di confrontarmi con la dottoressa Di Minco che è la responsabile del tavolo della telemedicina del Ministero della Salute e che è il tavolo dal cui sono nate le linee guida che attualmente sono state divulgate e la Regione Piemonte le ha fatte sue. Dunque, in queste linee guida devo dire che parecchie delle iniziative contenute nel nostro modello organizzativo sono ricomprese proprio perché probabilmente è stato preso spunto da quell'incontro che si è tenuto a Palermo nel 2011. Quindi il progetto telemedicina prosegue nella nostra azienda sanitaria? Con quali prospettive? Allora, noi abbiamo fatto di tutto cercando fonti di finanziamento alternative rispetto al progetto iniziale che, come ho detto, era terminato a dicembre del 2011. Queste fonti di finanziamento che attualmente abbiamo derivano grazie al contributo del CSI Piemonte. Siamo alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento e per questo partecipiamo al concorso di idee che ha messo in piedi il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano sul bando Welfare in Azione della Fondazione Cariplo. In pratica si tratta di un progetto per la presa in carico di pazienti fragili, particolarmente anziani, nel quale un pezzo è anche seguire questi pazienti anziani fragili, non autosufficienti, affetti anche da patologie, attraverso la telemedicina. Vorremmo in questo caso anche modificare il modello organizzativo coinvolgendo i gruppi di cure primarie presenti sul nostro territorio, gruppi di cure primarie costituite dai medici di famiglia. sarebbe nostra intenzione partecipare anche al progetto Interreg del 2015 coinvolgendo anche il partner svizzero e quindi cercando di esportare questo nostro modello alla nostra confinante svizzera. Sono queste le fonti di finanziamento che ci consentirebbero attualmente di dare continuità e anche di poter espandere il servizio di telemedicina. Quello che è importante per rendere questo servizio definitivo e a sistema è che possa avere i piedi per camminare da solo. Ci sono delle prospettive economiche in questo senso? Credo di sì perché proprio a seguito dell'emanazione delle linee guida nazionali fatte proprie dalla regione Piemonte è stato fatto nel mese di aprile un incontro in regione con l'intenzione di costituire un tavolo tecnico per poter approfondire i temi contenuti nelle linee guida e quindi poter dare una speranza in questo senso. Ma che cos'è la telemedicina e in pratica come si sviluppa questo progetto? La telemedicina sostanzialmente è un progetto per cui i pazienti dal loro domicilio sono in grado di inviare alcuni dati specifici direttamente all'ambulatorio specialistico. Questo progetto è nato nel 2008 ed è riferito a quattro categorie di pazienti i pazienti con insufficienza cardiaca, i pazienti con insufficienza respiratoria, i pazienti con patologie tumorali ed i pazienti diabetici. I pazienti che sono stati coinvolti in questo progetto globalmente sono stati 268, l'80% di questi sono stati diabetici perché i diabetici sono già abituati a controllarsi la glicemia a casa e quindi sono già un passo avanti proprio per le caratteristiche del loro controllo domiciliare. Questi pazienti in effetti con una strumentazione particolare sono in grado di registrare il valore della glicemia a casa e di inviarlo direttamente al computer dell'ambulatorio specialistico. Questo naturalmente consente un monitoraggio molto più intensivo, molto più puntuale, molto più incisivo del paziente diabetico riuscendo anche a prevenire degli scompensi metabolici in maniera significativa. I risultati su questi pazienti diabetici in questi anni quali sono stati? Ecco, noi abbiamo valutato i nostri parametri classici che sono l'emoglobina glicata, il profilo lipidico e tutto quanto prima di inserire il paziente nel progetto e dopo due anni. E i valori che abbiamo ottenuto sono dei valori nettamente positivi, nel senso che per quanto riguarda il compenso glicemico abbiamo ottenuto una riduzione dell'emoglobina glicata che è lo specchio delle glicemie medie degli ultimi tre mesi, una riduzione significativa dello 0,7%. Faccia conto che un farmaco è in grado di ridurre l'emoglobina glicata dello 0,7,1%. Quindi il semplice inserimento in un progetto di monitoraggio di questo tipo è servito a ridurre in maniera significativa l'emoglobina glicata. Anche dal punto di vista del profilo lipidico abbiamo ottenuto delle riduzioni significative a livello del colesterolo e dei trigliceridi. Quindi il paziente che viene controllato in maniera più puntuale e più intensiva a domicilio chiaramente tende anche a modificare le proprie abitudini alimentari e quindi ad aderire molto di più al progetto terapeutico. La telemedicina immagino che anche eviti molti viaggi magari per andare dallo specialista per delle patologie che invece insomma richiedono appunto questi controlli frequenti. Sì, questo è sicuramente un dato importantissimo nel senso che noi per quanto riguarda i pazienti diabetici abbiamo inserito diciamo tre categorie di pazienti. I pazienti con diabete di tipo 1 giovani in età lavorativa per i quali naturalmente ridurre il numero degli accessi ambulatoriali è fondamentale proprio per la loro qualità di vita. D'altro canto abbiamo inserito pazienti anziani con molte complicanze, con difficoltà veramente al movimento a volte seguiti da un caregiver a domicilio e chiaramente qui diventa fondamentale. La terza categoria che direi che è senz'altro una delle categorie più appropriate è quella del diabete gestazionale cioè le donne che sviluppano il diabete nel corso della gravidanza. Queste donne effettivamente risparmiano più del 90% degli accessi ambulatoriali perché aderiscono al programma dietetico inviano i dati, il diabetologo vede in tempo reale i dati evitando completamente gli accessi ambulatoriali. Abbiamo calcolato che in un anno siamo in grado di risparmiare tra i 500 e i 550 accessi ambulatoriali a questi pazienti quindi il dato è sicuramente significativo. Un'altra cosa importante per quanto riguarda i risultati è che siccome una delle principali complicanze delle terapie ipoglicemizzanti è proprio l'ipoglicemia, il monitoraggio continuo dei valori glicemici a domicilio ha anche ridotto in maniera significativa gli accessi in pronto soccorso per le complicanze ipoglicemiche. Quindi direi che globalmente il progetto ha sicuramente un suo valore importante. Il progetto coinvolge pazienti su tutto il territorio del Verbano Cusiossola? Sì, sì, sì. Il progetto coinvolge pazienti su tutti i distretti, sul distretto di Omenia, sul distretto di Verbagna e sul distretto di Domodossola. Abbiamo anche confrontato i dati quando li abbiamo raccolti e globalmente abbiamo ottenuto dei risultati positivi simili e sovrapponibili in tutti e tre i distretti. C'è anche da dire che per quanto riguarda l'aspetto diabetologico tutte le nostre infermiere si sono fatte carico della spiegazione del progetto al paziente, della spiegazione dello strumento, di come fare a inviare il dato. Quindi è stato un carico di lavoro importante sicuramente dal punto di vista medico ma soprattutto dal punto di vista infermieristico in quanto sono gli infermieri che gestiscono direi l'80% di questo progetto. Come si entra nel progetto di telemedicina? Per quanto riguarda i diabetici normalmente è il diabetologo che ha individuato alcune caratteristiche precise che fanno parte di quei pazienti che abbiamo elencato prima ed è il diabetologo che generalmente propone al paziente l'inserimento in telemedicina. Dobbiamo dire che fino ad ora a tutti i pazienti con cui l'abbiamo proposto è stata data risposta positiva quindi hanno accettato tutti quanti di essere inseriti in questo progetto. Abbiamo anche fatto una specie di questionario di soddisfazione dell'utenza dopo un anno di inserimento nel progetto e dobbiamo dire che i risultati sono assolutamente soddisfacenti. Il paziente si sente più seguito, non ha avuto difficoltà a utilizzare gli strumenti, quindi vede che c'è un miglioramento del suo percorso per cui i dati anche dal punto di vista del paziente e non solo dal punto di vista del clinico sono assolutamente positivi. Siamo con Danila per capire praticamente come funziona la telemedicina. Tutti i dati raccolti vengono convogliati in questo terminale, c'è un programma apposta, giusto? Esattamente, noi abbiamo una centrale operativa che invia tutti i dati che sono rilevati dai nostri pazienti alle tre diabetologie del VCO. Noi li riceviamo e giornalmente apriamo un portale dove poi noi cliccando andiamo a selezionare i nostri pazienti e verifichiamo l'andamento glicemico che hanno durante tutta la settimana. In questo caso noi possiamo valutare sia la glicemia, per cui se ci sono degli sbalzi di ipo o di iperglicemia, in questo modo avvisare il medico per poter apporre le eventuali modifiche. Ed eventualmente possiamo anche controllare se ci sono delle variazioni anche ad esempio sul respiro oppure sulla frequenza cardiaca o quant'altro, quello che noi monitoriamo sul paziente, sempre nostro diabetico. Nel momento in cui c'è qualcosina che non va, voi chiamate solo il medico oppure a volte può esserci anche un contatto diretto con il paziente? Noi abbiamo prima di tutto un contatto diretto con il paziente per capire, quindi sia la diabetologia di Omenia, che Verbagna, che Domodossola, si interessa di telefonare direttamente al paziente per capire il motivo per cui o non c'è l'invio dati oppure ci sono delle anomalie sul valore glicemico riscontrato. Dopodiché se vediamo che questo non può essere risolto fra di noi, oppure c'è una dimenticanza, oppure questo paziente non ha mangiato e c'è un grosso problema glicemico, noi abbiamo sempre a disposizione il nostro diabetologo per mettere a contatto lui e il paziente in modo da poter ripristinare quelle che sono le variazioni classiche del diabete, per cui le variazioni glicemiche normali per un paziente diabetico. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a vivere in salute chiocciola aslavco.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.